Il porto di Ancona è uno degli approdi commerciali più importanti dell'Adriatico e quindi noi abbiamo apprestato dei sistemi di vigilanza alti e questi sistemi ci hanno dato ragione perché abbiamo fatto dei sequestri significativi. A parlare il comandante regionale della Guardia di Finanza è il generale Umberto Sirico. I sequestri significativi a cui si riferisce sono quelli compiuti nel 2013. Merci contraffatte, giochi pericolosi, prodotti tossici e tanta droga. Nell'ultima operazione, quella di alcuni giorni fa a Muccia in provincia di Macerata, sono stati scoperti due uomini struzzo o ovulatori. Avevano ingerito 146 ovuli di eroina purissima, un quantitativo enorme. Il quantitativo complessivo è stato di circa 1,2 kg di eroina, è un quantitativo importante per la provincia ed era sostanza che veniva quindi smerciata sul territorio regionale. La direttrice Roma Ancona sta diventando fondamentale per il traffico di droga nell'Adriatico. Abbiamo riscontrato un discreto aumento di spacci di sostanze stupefacenti, basta considerare le ultime operazioni che sono state condotte anche nel porto di Ancona con sequestri imponenti di sostanza stupefacente. Devo dire che questo mercato si sta espandendo anche verso le altre etnie perché è la prima volta che ci capita di attenzionare dei soggetti di origine pakistana. La Guardia di Finanza è stata particolarmente attiva sul fronte del traffico di sostanze stupefacenti. Nel 2013 sono state arrestate 69 persone e sequestrati 2.000 kg di droghe. Quindi è alta l'attenzione delle fiamme gialle sui traffici che sempre più spesso sono anche il perno delle attività della malavita organizzata. Oggi si parla di impresa mafiosa. Noi dobbiamo immaginare che oggi la criminalità organizzata non è una criminalità coppola e lupare, è una criminalità organizzata che si avvale anche di soggetti che conoscono i meccanismi, che si avvalgono di quella cosiddetta borghesia mafiosa che è una parte acculturata, competente che investe gli interessi criminali. Questo ambito non è da sottovalutare. Nel 2013 gli uomini della finanza hanno sequestrato beni sottratti alla malavita organizzata per un valore di 1,6 milioni di euro. E anche se nelle marche non c'è criminalità organizzata in forma strutturata, si registrano ugualmente infiltrazioni mafiose. Lo ha detto recentemente anche il procuratore generale Vincenzo Macri.